Vogliamo dar spazio quest'oggi a una bella iniziativa, una bella iniziativa che è giunta ormai all'ennesima edizione, diciamolo così. A parlarcene c'è oggi il presidente di Festa Ambiente Sud. Buongiorno. Buongiorno. Franco Salcuni, direttore di Festa Ambiente Sud, anzitutto professore di filosofia, siccome qualifica iniziale. E poi direttore di questa grande impresa che è Festa Ambiente Sud. Che cos'è? È un festival che ormai si tiene da otto anni. Questa è l'ottava edizione nel centro storico di Monte Sant'Angelo. È nato nel 2005 su iniziativa della Direzione Nazionale di Lega Ambiente che voleva mettere in piedi una kermess, un appuntamento estivo sulle questioni meridionali. Quindi nasce come Festa Nazionale di Lega Ambiente per il Sud Italia. Siamo cresciuti, abbiamo generato più di un festival, perché ormai abbiamo un'edizione invernale. Dal 2007 abbiamo un teatro civile festival, che è un festival tematico, sul teatro, soprattutto il teatro di ricerca. E poi facciamo attività per tutto l'anno, i cosiddetti focolari di Festa Ambiente Sud. Quindi ci siamo moltiplicati come iniziative. Davvero moltiplicati. Anche quest'anno sono tantissimi gli eventi che vi vedranno protagonisti. Raccontacene qualcuno. Sì, per tutto il mese di luglio ci saranno eventi nel centro storico di Monte Sant'Angelo. Diamo delle date precise. Sì, innanzitutto facciamo, stiamo dando una mano al teatro pubblico pugliese, Puglia Sounds, per un weekend che è una sperimentazione di iniziative nelle aree protette pugliesi. Con noi faranno una tappa sul Gargano dedicata al Sacro, dal 6 all'8 luglio. E questo è un primo weekend di lavoro. Non vi anticipo perché fra un po' ci sarà la conferenza stampa, quindi non posso anticipare ancora niente. Però ci saranno ospiti molto importanti. Poi ci sarà un secondo weekend, un'anteprima del festival, il 14 e il 15 di luglio, dove presenteremo questi due lavori che presentiamo oggi pomeriggio alla libreria Ubic a Foggia. E cioè due debutti nazionali, per noi è un grande onore ospitarli perché sono due grandi personaggi. Uno è Federico Rampini, che è uno dei più grandi giornalisti italiani, corrispondente per anni di Repubblica da Pechino e oggi corrispondente da New York, che presenterà in debutto mondiale il suo lavoro tratto dal suo ultimo libro che è Occidente estremo. Ci racconterà un po' di geopolitica e questo appunto debutterà il 15 di luglio. Il 14 invece è un altro debutto eccellente. Per la prima volta in scena Profondo Sud di Pino Aprile, autore di Terroni, ha venduto mezzo milione di copie di questo libro importante per ricostruire la storia del Sud Italia e sarà in scena con Eugenio Bennato in questa prima assoluta. Poi la settimana successiva invece inizia una dieci giorni intensissima, perché faremo minimo cinque eventi al giorno dal 20 al 29 luglio, tra Castello e Centro Storico di Monte Sant'Angelo. Prima con cinque giorni di Teatro Civile Festival e poi con cinque giorni di Festa Ambiente Sud. Senti Franco, nel frattempo noi stavamo guardando quello che è lo spot di questa edizione. Un'edizione che ha un titolo eloquente, giusto? Non sarà certo colpa dei Maya. Sì, perché stiamo giocando un po' sulla profezia dei Maya. Questo 12-12-12 che sarebbe la data della fine del mondo. Chiaramente noi non ci crediamo. Però lo spot spiega un po' il perché abbiamo voluto raccogliere questa provocazione. Il motivo è che comunque questo mondo lo stiamo guardando in un momento di grande crisi. C'è una crisi ecologica che è sotto gli occhi di tutti, dovuta soprattutto al surriscaldamento del pianeta, dovuta alla questione climatica e quindi al continuo uso di combustibili fossili che invece andrebbe superato con una politica legata alle energie da fonti rinnovabili. Esiste una questione economica che è sotto gli occhi di tutti. Anzi, in questi giorni c'è l'ultimatum del Fondo Mondiale che ci dice che abbiamo tre mesi per salvare l'euro. Viviamo sotto un patema continuo, un'ansia continua e che è un'ansia da finimondo. E poi esiste una crisi sociale, un po' legata alla crisi economica, un po' legata ai cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo. Pensiamo solo alle grandi migrazioni che stiamo vivendo. L'immigrazione, da qualcuno viene vissuto come una minaccia all'identità culturale dei popoli, da qualcun altro come uno squilibrio degli assetti sociali ed economici della società. Di fatto è semplicemente un cambiamento, come l'umanità ne ha visti tanti in questi millenni. millenni. Ecco, noi vogliamo discutere di queste cose, vogliamo portare in scena con l'arte molte di queste ansie e molte di queste paure. Soprattutto vogliamo capire come chiudere un mondo per cominciarne un altro, perché probabilmente quello di cui c'è bisogno è di una fase di grande cambiamento. Un cambiamento consapevole, un cambiamento verso il meglio. Ci sono le basi secondo te per questo genere di cambiamento? Io credo di sì. Credo che dopo una fase di caos come questa che stiamo vivendo, sicuramente potrà avvenire una fase di maggiore serenità per l'umanità. C'è da dire che i cambiamenti che stiamo vivendo sono troppo repentini. Basti pensare che, per dire, l'incremento demografico del pianeta, l'aumento della popolazione è ormai esponenziale. C'è un raddoppio ogni vent'anni della popolazione mondiale. E' chiaro che non abbiamo il tempo di abituarci a questi cambiamenti. Occorrerà, insomma, affrontare probabilmente a livello di politiche internazionali una sorta di stabilizzazione. Il pianeta deve trovare un equilibrio. Un equilibrio che così è difficile da trovare. E per fare questo ci vuole una grande consapevolezza. Consapevolezza culturale a livello di cittadini. Ma anche una grande consapevolezza che il pianeta si governa in un modo diverso. Questo è quanto. Noi siamo fiduciosi. Diciamo che l'ambientalismo di legambiente è un ambientalismo ottimista. Nel senso che cerchiamo di capire lì dove sono i germi e i semi del cambiamento e cerchiamo di capire come incrementarli, come coltivarli. Secondo me l'arte è uno strumento molto importante perché ci permette di avvicinare la questione ambientale alla questione culturale. Oggi se c'è un problema drammatico che probabilmente è la radice della crisi e che è aumentata, osservando il mondo così come lo stiamo vivendo, è aumentata la possibilità di comunicare. Contemporaneamente però c'è un arretramento a livello culturale. La questione culturale è una questione strategica. Dal punto di vista ambientalista noi diciamo che non c'è qualità ambientale se non c'è qualità culturale del territorio, della società. E' aumentata la quantità ma non allo stesso modo la qualità della comunicazione. Esatto. Quindi c'è questo, insomma, è inversamente proporzionale. E' proprio così. E senti, proprio a proposito di questo elemento dell'arte, ci sarà giovedì 26 luglio uno spettacolo importante, quello di Gian Antonio Stella. Il 15 luglio. Sì, leggemo nel comunicato. Ah, il 26 luglio, sì, Gian Antonio Stella. Sono tanti, io quindi adesso... Allora, te lo dico io. Vandali, l'assalto alle bellezze d'Italia. Allora, per la prima volta al sud, Gian Antonio Stella presenta questa versione teatrale. Ricordiamo chi è Gian Antonio Stella. Gian Antonio Stella è uno dei più grandi giornalisti italiani, una firma importante del Corriere della Sera, editorialista, e da tempo si è occupato sia della questione ambientale che soprattutto della questione dei beni culturali in Italia. Di fatti denuncia la continua distruzione delle bellezze d'Italia. E' un dato sconcertante. Eravamo i primi al mondo nel turismo, siamo precipitati per competitività al ventottesimo posto. Però sembra che nessuno se ne accorga. E la ragione principale di questo arretramento sta nel fatto che noi non riusciamo a tenere bene i nostri tesori. Basti pensare alla vicenda di Pompei, che è una vicenda che Stella descrive molto bene nel suo lavoro, di questo degrado assoluto con i crolli, che sarebbe impensabile in qualsiasi paese del mondo. Io aggiungo però anche un'altra. Gli scarsissimi investimenti anche nelle attività culturali. Quindi oltre alla questione del patrimonio culturale, sicuramente va fatta una riflessione anche su quanto noi curiamo i nostri tesori che sono legati alla nostra identità. Basti pensare che probabilmente oggi paesi come la Corea, come il Giappone, investono più dell'Italia sulla lirica italiana. E abbiamo capito tutto. Secondo te perché c'è questo problema così forte rispetto all'arte? Ne abbiamo troppa in giro? Non ci rendiamo conto della grande importanza? Secondo me perché si è affermata una visione del territorio che invece di tipo speculativo. È molto facile fare soldi costruendo. E quindi ormai il suolo è diventato qualcosa che noi leggiamo solamente in un'ottica di ricchezza veloce da fare, di arricchimento veloce, quindi in un'ottica speculativa e non ci rendiamo conto invece che la vera ricchezza sta nella conservazione del patrimonio, perché è quella che poi ha sempre, come posso dire, identificato la posizione dell'Italia nel mondo. In particolare poi del sud, perché il sud è in questo luogo in cui ci troviamo, San Giovanni Rotondo, ma anche Monte Sant'Angelo, patrimonio dell'UNESCO, davvero sono moltissime le bellezze da poter... Moltissime sono le bellezze, però noi ci dobbiamo assumere tutti, lo dico per San Giovanni, ma lo dico anche, soprattutto per Monte Sant'Angelo, che ormai è patrimonio mondiale dell'umanità. Ci dobbiamo assumere la responsabilità della tutela, della tutela di questo patrimonio. Io non vedo delle chiare politiche di tutela di questo patrimonio. La paura che noi abbiamo è che fra vent'anni l'abbiamo cancellato e quindi abbiamo cancellato il motivo per cui la gente viene qui. Lo stesso Padre Pio, la sua spiritualità è molto legata al paesaggio, alla bellezza di questi luoghi. Io non riesco a scindere Padre Pio dal paesaggio in cui lui è vissuto. Probabilmente la sua spiritualità è cresciuta in questo paesaggio, nella ruralità di questo paesaggio. Il fatto di averla snaturata probabilmente non mette lo stesso pellegrino in condizione di vivere quella spiritualità in sintonia con quella di Padre Pio. Allora, oggi noi abbiamo questa responsabilità di conservare i luoghi perché i luoghi sono fondamentali anche per la crescita dello spirito. Questo senz'altro. Poi tanti gli argomenti che affronterete, leggo ancora, spazio alla natura venerdì 27 luglio con Waterfront, dialogo sull'acqua, altro elemento caldo. Sì, avremo con noi uno scienziato, Andrea Segre, accompagnato da un turista per caso, che poi è Patrizio Roversi, quello di turisti per caso, che in maniera molto divulgativa, tra l'altro sarà uno spettacolo a ingresso libero che faremo in piazza. Tra l'altro Andrea Segre, lo ricordo, è un professore universitario... Sì, lui è preside della Facoltà di Agraria dell'Università di Bologna. Quindi grandemente. Grandemente, grande divulgatore, abbiamo scoperto. Tra l'altro ha ottenuto tanti spettacoli anche in giro per l'Italia. Sì, sì, ho fatto, esatto, sullo spettacolo Spreco, ho fatto con Cirri, quello di Caterpillar, che ha fatto una bella stagione. E, appunto, è uno spettacolo divulgativo, di divulgazione scientifica sulla questione dell'acqua, che è una questione importante per il nostro pianeta. Ecco, uno dei motivi di crisi geopolitica, anche legata alla scarsità della risorsa acqua dolce. E questo spettacolo affronta questo tema. Poi, altri elementi salienti del programma? Allora, il programma, giusto per dare delle coordinate per la fruizione, avrà questo teatro civile festival, che è un po', appunto, il contenitore della sperimentazione teatrale, a direzione Maria Teresa Surianello, una critica teatrale di Roma, che ci dà una mano ormai da cinque anni, e che, appunto, ospita tanti lavori nuovi, in linguaggi nuovi di teatro, eccetera, tutti sul tema fine mondo. Poi, avremo il programma dei concerti, avremo cinque grandi concerti, più altri sei, sette eventi. Cinque grandi concerti li abbiamo già annunciati, e sono l'apertura con i Radio Dervish, un gruppo pugliese, però molto contaminato musicalmente, con la cultura mediterranea. Poi avremo un omaggio a Pasolini, fatto da un gruppo rock, gli tre allegri ragazzi morti, molto amato dai giovani. Avremo gli After Hours, che quest'anno hanno fatto un disco bellissimo, uno dei più grandi gruppi rock italiani. Il disco è intitolato Padania, verranno a presentarlo da noi in una serata che noi dedicheremo alla conservazione del patrimonio culturale, quindi all'UNESCO il 25 di luglio. Poi avremo il Teatro degli Orrori, un altro gruppo rock importante, con una serata dedicata proprio all'immigrazione. L'ultimo disco che hanno fatto, che è uscito a gennaio, è intitolato Il Mondo Nuovo, tutto dedicato al tema dell'immigrazione. E poi chiuderemo con Vinicio Capossela, in una serata speciale, che dedicheremo, così come il suo disco, che esce proprio oggi, è dedicato alla Grecia. Lui reinterpreta molti suoi brani in chiave greca, con dei musicisti greci. Per noi è il momento di parlare di Europa, perché noi ci dobbiamo interrogare. Se l'Europa che stiamo costruendo è un'unione politica e culturale, di popoli che costruiscono reti sociali, oppure se dobbiamo continuare a utilizzare solamente degli indicatori di tipo economico. Diciamo, volendo sintetizzare, noi siamo per l'Europa dei popoli, contro l'Europa degli spread. fare questo abbraccio culturale alla Grecia, quindi all'ultimo in classifica della nostra Europa, per noi significa porre la questione dell'Europa politica. E lo faremo con Vinicio Capossela il 29 di luglio, nel castello di Monte Sant'Angelo. L'altro grande contenitore culturale, invece, all'interno del festival, è proprio questa rassegna di giornalisti, scrittori e scienziati che si stanno cimentando con la scena teatrale. Quindi da una parte ci si rivolge ad un pubblico più giovane, abbiamo visto grandi momenti di rock che naturalmente interesseranno i giovanissimi e non, diciamo così. E non, perché... Ma poi anche, insomma, ci si riferisce ad un coinvolgimento diciamo più elevato culturalmente attraverso la presenza di tanti... Di tanti nomi della cultura italiana. Appunto, questa sezione è intitolata il teatro delle idee con appunto Pino Aprile, Rampini, Gian Antonio Stella, Segre con Robertsi e poi la chiusura il 28 di luglio con Marco Travaglio e Isabella Ferrari in questo... Uno degli ultimi appuntamenti del loro tour con Anestesia Totale, questo spettacolo che ha un po' contraddistinto la stagione teatrale dell'ultimo anno. Quindi molto ricca come sezione, molto di qualità. Abbiamo voluto quest'anno soffermarci sull'Italia, sulla cultura italiana. Abbiamo voluto esplorare quelle che sono le migliori espressioni della cultura italiana. Ecco, parli... Hai sempre parlato quando ti riferisci all'organizzazione dell'evento al plurale, perché naturalmente sono tante persone. Abbiamo un bel gruppo di persone che lavorano, abbiamo un ottimo ufficio stampa coordinato da Pasquale Gatta, un'amministrazione abbastanza efficiente, anche se sofferente, perché come ben sapete i finanziamenti alla cultura in Italia sono molto scarsi, per cui chiunque organizzi degli eventi deve in qualche maniera fare a volte la lotta contro i mulini a bento, ma noi in qualche maniera riusciamo sempre, che è Anna Maria Rinaldi, è la nostra amministratrice, abbiamo un bel gruppo di volontari, di solito sono più di 50 i volontari che ci aiutano, anche dall'estero. Abbiamo quest'anno attivato una convenzione con l'Università di Bordeaux, per cui avremo delle risorse che vengono dalla Francia, darci una mano, proprio per questo grande evento. che noi, insomma, diciamo che finora è stato ed è un festival grande, vorremmo che diventi anche un grande festival, questo soprattutto con l'aiuto del pubblico, perché a quest'anno, mentre fino agli anni scorsi gran parte degli eventi erano gratuiti, quest'anno noi stiamo chiedendo un contributo anche al pubblico, chiedendo al pubblico di finanziare questo incremento di qualità del festival e anche di assicurare un futuro al festival, perché gran parte dell'attività che stiamo facendo, non solo noi, ma anche tante altre realtà, sono in grande sofferenza. Questo noi lo dobbiamo sapere, perché l'offerta culturale si deve reggere anche su una disponibilità finanziaria che oggi in qualche maniera latita. Fortuna che siamo in Puglia, dove c'è una politica culturale abbastanza chiara sugli eventi e questo ci facilita, ma in altre parti d'Italia i festival sono in grande difficoltà. Così come sono in difficoltà, tutti i presidi culturali. Quindi noi facciamo appello al pubblico, il pubblico ci deve aiutare pagando il ticket, non chiediamo altro, semplicemente sottoscrivendo degli abbonamenti e pagando il ticket, soprattutto per i grandi eventi, perché questo ci dà ossigeno, per continuare poi a dare spazio a tutti gli eventi gratuiti, a tutte le giovani espressioni della cultura che avranno all'interno del nostro festival una grande possibilità di espressione. Senti, parliamo di pubblico, che genere di riscontro avete avuto anche nelle passate edizioni, dalle due categorie che abbiamo preso un po' in considerazione, quindi giovani da una parte, tra l'altro tu sei professore di filosofia, quindi hai a che fare quotidianamente. Contatto con il mondo giovanile. Sì, ma si vede anche dai tuoi gusti musicali che sei particolarmente giovane e dall'altra parte invece il pubblico adulto. Qual è la risposta? Allora, noi siamo partiti con un festival diciamo abbastanza alternativo, che si rivolgeva soprattutto a un pubblico giovane. Poi pian piano il pubblico appunto più maturo si è avvicinato a noi man mano che è cresciuta l'offerta culturale. La risposta devo dire che è molto molto interessante. Noi abbiamo portato nel Centro Storico di Monte Sant'Angelo nelle scorse edizioni più di 200.000 persone con delle punte, con dei grandi eventi che noi abbiamo organizzato. Memorabile è stata la data nel 2008 di Caparezza dove noi insomma abbiamo messo in crisi la nostra città ma abbiamo fatto grandi eventi con grandissima partecipazione di pubblico. è chiaro che quello che qui miriamo noi oggi è anche a una certa fidelizzazione del nostro pubblico per cui ci piacerebbe appunto mantenere un contatto più vivo per tutto l'anno motivo per cui noi stiamo facendo attività per tutto l'anno. Interessantissimo l'esperimento che abbiamo fatto a gennaio dell'edizione invernale del festival un'edizione tutta indoor tutta al coperto una novità per noi ed è stata sostenuta principalmente dagli spettatori quindi la prova che con il pubblico quando si costruisce un buon rapporto si riesce a fare delle attività anche senza o con pochi finanziamenti pubblici questa è una dimensione importante soprattutto per la città di Monte Sant'Angelo che essendo patrimonio UNESCO deve sviluppare sempre di più questa sua identità sul territorio di centro storico per un'area vasta per un'area vasta come quella del Gargano. Di centro culturale attorno al quale devono orbitare per forza di cose una serie di eventi di iniziative. Esatto sì siamo convinti sicuramente deve fare uno sforzo per attrezzarsi un po' meglio per gli spazi culturali non quelli all'aperto perché ce ne sono tanti ma quelli al chiuso per fare in modo che diventi una città capace di ospitare grandi eventi per tutto l'anno. Anche perché poi diventa il fulcro diciamo di una serie di persone che vi orbitano che arrivano naturalmente anche da fuori in Monte Sant'Angelo. Eh questo è importante noi già l'anno scorso abbiamo fatto un esperimento di incoming di turistico quest'anno lo rafforziamo infatti da oggi o domani adesso io non so di preciso se riusciamo saranno online i pacchetti turistici che noi lanciamo con un'offerta integrata tra ospitalità e offerta culturale con visite guidate gli spettacoli chiaramente il dormire e la possibilità poi di provvedere autonomamente al vitto in una città che offre tantissimo è un territorio vasto che va visitato quindi con varie formule che aveva la possibilità di stare al mare e venire al festival oppure di stare appunto in montagna e noi crediamo molto di venire a San Giovanni Rotondo visto che è così assolutamente anzi molti risiederanno anche a San Giovanni Rotondo durante il festival visto la grande offerta di ospitalità che è a San Giovanni Rotondo sì insomma se cresce questa dimensione di incoming sicuramente il beneficio nei prossimi anni potrà ricadere su tutto il territorio i festival sono un grande attrattore culturale per i numeri che fanno e perché comunque ormai ci sono anche sul piano economico ci sono degli studi consolidati se si investe 100 sul territorio la ricaduta è 800 cioè il rapporto tra investimento pubblico privato che sia è resa economica per il territorio di 1 a 8 quindi è un gran investimento per questo è paradossale diventa ancora più paradossale la scarsa attenzione che c'è rispetto a questi dati parlavi prima di speculazione però non si capisce perché difficilmente poi si investe in una cosa che rende la cultura rende sempre perché è un attrattore ma anche perché genera delle cose nuove che inevitabilmente mettono in circolo energie suscitano energie e rivitalizzano il territorio quindi il grande investimento che va fatto in questo territorio è proprio in attività culturali essenzialmente questo una parola volevo spendere rispetto alle iniziative un po' all'atere di questa grande che sono i focolari di cui parlavi prima di che cosa si tratta grande attenzione avete dato alla legalità sì perché allora noi coi focolari chiamiamo il pubblico per tutto l'anno soprattutto nel periodo invernale infatti sono nati come focolari d'autunno e focolari d'inverno vogliamo lavorare sulla dimensione simbolica Monte Sant'Angelo è una città di montagna spesso c'è la neve a volte fa freddo nella nostra sede nel centro storico di Monte Sant'Angelo noi accendiamo il fuoco che è anche simbolicamente il fuoco della discussione dell'incontro ci riscaldiamo con la cultura sono una serie di piccoli e grandi eventi abbiamo avuto anche ospite che ne so Cerami Franco Arminio grandi scrittori abbiamo fatto delle iniziative convennistiche sul turismo a carattere regionale e nazionale sono tanti eventi che noi di solito mandiamo in diretta web e quindi sanno anche l'occasione per aprire e mantenere il contatto con tanta gente che magari viene al festival d'estate ma tutto l'anno non può seguirci venendoci a trovare e ci servono per mantenere la continuità di un discorso per cui ci diamo un tema per tutto l'anno e cerchiamo di snocciolarlo attraverso tutta una serie di incontri di iniziative l'anno scorso ci siamo occupati proprio di ricette contro la crisi economica cosa ne è venuto fuori? Ne è venuto fuori che la chiave ambientalista può essere una risposta anche alla crisi economica cioè una svolta sostenibile dell'economia può essere una boccata d'ossigeno per l'economia stessa questa è una grande riflessione che dobbiamo fare tutti perché si parla tanto di Germania probabilmente la Germania è uno dei paesi europei che ha subito o meno la crisi anche se anche lì c'è la crisi molti non lo dicono ma anche lì c'è la crisi ebbè uno dei motivi per cui non ha subito come noi questa crisi è perché con coraggio sta affrontando la questione della riconversione ecologica delle politiche energetiche i 170 mila posti di lavoro che loro hanno generato con le energie rinnovabili sono una risposta importante così come la chiave ambientalista nei consumi come può essere per esempio il chilometro zero nel commercio e nell'acquisto dei prodotti agricoli sono una forma di aiuto per il sistema delle imprese locali non ce lo dimentichiamo che acquistare dalle multinazionali che sono gran parte di quelli che gestiscono i grandi centri commerciali significa lasciare il profitto che vada fuori invece acquistare dal contadino attraverso un sistema di acquisto sociale di associazionismo tra consumatori significa alimentare la filiera corta il chilometro zero e quindi acquistare sul territorio e quindi aiutare a fare profitto alle nostre imprese locali quindi combattere la crisi economica anche in questo modo occorre capire come facendo delle piccole cose si riesca a fare meglio per l'ambiente e nello stesso tempo a fare meglio per l'economia italiana questa è la grande riflessione che l'ha fatta ecco noi abbiamo esplorato un po' tutti questi aspetti per cercare di capire come questa cosa si può fare forse Franco la risposta arriverà proprio dai quei giovani con cui ti trovi a parlare giorno dopo giorno perché forse in loro già dalla mia generazione però ancor più in quella insomma dei ragazzini quelli che adesso sono adolescenti è più forte il sentire rispetto all'ambiente devo dire che è vero cioè c'è una maggiore migliore sensibilità diciamo che come esiste una generazione di nativi digitali cioè di gente che è nata ormai nell'era digitale e quindi vive la comunicazione nell'ottica digitale così esiste una generazione di nativi ambientalisti diciamolo così cioè di chi è nato nell'era della consapevolezza della crisi ecologica che è stata negata per tanto tempo così come probabilmente le industrie del tabacco hanno fatto di tutto per negare il fatto che evidentemente il tabacco faceva così male e poi l'abbiamo scoperto dopo tempo così è vero questo ce lo dobbiamo dire che l'industria petrolifera ha fatto di tutto per negare che il consumo di petrolio fosse un male per il pianeta a un certo punto questa cosa invece è stata ammessa da tutti ecco chi è nato nell'era in cui questa cosa è patrimonio comune probabilmente ha una consapevolezza che è diversa le nuove generazioni io osservo che ce l'hanno questa consapevolezza maggiore senz'altro maggiore rispetto a quella al sentire di oggi ebbene Franco rinnoviamo l'invito a seguire naturalmente il tutto ciò che riguarda il festival a visitare il sito il sito è www.festambientesud.it seguite soprattutto quello perché lì daremo tutti gli aggiornamenti sono 64 eventi quindi difficile da comunicare in altro modo seguite il nostro sito festambientesud.it ripeto e lì troverete tutte le informazioni ebbene ancora grazie grazie a voi e grazie al pubblico per essere stato qui con noi grazie a voi vi aspettiamo ok restituisco la linea alla regia ci vediamo dopo grazie a tutti